Coccio Laiola, sommerso dai suoi giocatori giustamente, Coccio una parola, che partita, che grinta, che voglia, che energia la sua squadra. Posso dire solo che squadra, una squadra incredibile, fantastici ragazzi, fantastici tutti dal primo all'ultimo. Ce lo meritiamo perché abbiamo messo il cuore in campo veramente, non abbiamo mollato mai, anche se stavamo sotto, abbiamo avuto i coglioni di rimanere in partita e vincerla.